A me tutte queste cose da fare, l'ho detto, ha avuto tre mesi, quindi ha avuto poco tempo, ma ha scelto di fare la cosa più elettoralmente pagante, cioè mettere dei soldi, peraltro non suoi, ma dei cittadini nelle mani di chi riteneva fosse più vantaggioso per le sue elezioni. Io però proporrei a questo punto una riforma istituzionale fondamentale, l'abolizione totale dei sondaggi e degli exit poll, perché i sondaggi e gli exit poll avevano convinto lo stesso Renzi che poteva vincere di un punto o perdere di un punto, due giorni fa disse se vinco di un punto o perdo di un punto, il governo non cade e io non me ne vado, il che significa che l'ultimo ad aspettarsi questo risultato, sempre che questo risultato sia poi quello definitivo, perché ormai dobbiamo usare tutti i condizionali del mondo, era proprio Renzi. Se questo fosse il risultato definitivo, io credo che l'Italia avrebbe trovato il suo nuovo messia, gli italiani avrebbero trovato il loro nuovo uomo al comando. Queste ubriacature sono cicliche nell'Italia, è inutile cercare dei precedenti anche piuttosto spiacevoli che sicuramente Renzi non merita, ma insomma un plebiscito di questo genere forse potrebbe far riconsiderare anche quel concetto di populismo che veniva sempre appiccicato sia a Grillo sia a Berlusconi e che in realtà a pieno titolo può essere appiccicato a Matteo Renzi. Matteo Renzi è un grande leader populista che ha regalato dei soldi il giorno dopo delle elezioni agli italiani e altro finora se non promettere non ha fatto. Gli italiani aspettavano esattamente questo, aspettavano delle braccia alle quali consegnarsi, alle quali affidarsi e hanno scelto Matteo Renzi. Ma tutti i discorsi che si facevano sulla sinistra che non ha mai ottenuto questi risultati, Matteo Renzi se è vero che ha ottenuto questo risultato, l'ha ottenuto proprio perché il suo non è più un partito di sinistra, è un partito post ideologico, è un partito che non c'entra nulla con la tradizione della sinistra italiana, in questo senso sicuramente è stato un errore quello da parte dei Cinque Stelle di evocare Berlinguer perché agli italiani Berlinguer non piace perché Berlinguer è un piagnone, è un penitenziale, è un savonarola, è uno che propagandava austerità, rigore, sobrietà. Invece gli italiani vogliono sognare, lo hanno fatto con Berlusconi e adesso hanno trovato in Renzi il nuovo Berlusconi, un populista, un allegrone, un chiacchierone, uno che promette mari e monti. Il problema è che però la pazienza degli italiani e la creduloneria degli italiani forse ha dei tempi un po' più brevi rispetto a quelli che sono stati concessi a Berlusconi, per questo dicevo che ha promesso mari e monti, è vissuto ed è in piena luna di miele, in pieno stato di grazia con gli italiani, però stiamo attenti perché se poi agli 80 euro non seguirà nient'altro e le chiacchiere rimarranno appese al vuoto, probabilmente anche la creduloneria troverà un limite. Questo è il problema che dovrà affrontare Renzi nei prossimi mesi con appunto le macerie dei suoi alleati tutto intorno, quelli ufficiali Alfano e Monti e quelli ufficiosi e cioè Berlusconi che ovviamente saranno animati da grande spirito di revanche e quindi tutto ciò che gli hanno lasciato passare in questi tre mesi non glielo lasceranno passare mai più. Per questo io penso che questo grande risultato è assolutamente impensato da lui stesso, potrebbe essere anche un boomerang per carità, chi lo sa? Siccome i numeri in Parlamento non cambiano, seguendo questi risultati, cambia in Parlamento